Ehi, questo polpo ha perso il controllo! Come facciamo ad arrivare alla porta? Incredibile! Hanno risolto il puzzle! È un'orca! Penso che voi dobbiate cambiare posto! Ok, pirati, andiamo avanti! Non dimenticate che abbiamo un tesoro da trovare! Che idea meravigliosa! Un autobus fatto di bolle! Ben fatto! Bene, corpo di mille balene! Hanno risolto il puzzle! È una vongola! Il sole scende sempre più Ma la notte non è qua giù Un momento molto speciale Così io poi posso giocare E ora... Il giorno! Cosa ne dite di questi disegni? Non sembrano delle foto? Barba, Barba, stai zitto! Lolita dorme! Ha bisogno di riposo per riprendersi dalle forti emozioni che ha avuto oggi!